Ciao, sono Enrico Luzioli e ti mostro in questo video tre modi per chiudere la misura e andare in proiezione con una presa frontale. Allora, il primo modo che usiamo, quando il compagno ci attacca con il jab, per il momento ignoriamo cosa facciamo esattamente con le mani. Mi limiterò a fare un movimento tipo peri o pau-asse, quindi uso questo solo per avvicinarmi. Considera che può essere benissimo che usi lo slip per prendere la posizione avanzata, puoi usare il panantucan, puoi spostarlo in due o tre movimenti, adesso io non voglio entrare troppo in merito. E la stessa cosa si può fare anche su jab cross, per cui lui mi tira il cross, io lo sposto e dentro da questo lato di qua. Per semplicità, per mostrarti le tre varianti, parto da jab e parto senza fare particolari manipolazioni, mi limiterò solo a spostare il braccio. Tu considera, puoi toccare con le dita gli occhi, puoi toccare la gola, puoi colpire il corpo oppure puoi non fare niente. Quindi, entro e il primo passaggio consiste nel serrare con le ginocchia la sua gamba e andare ad afferrare il retro della schiena. Non prendo mai con le dita intrecciate, ma prendo mano su mano. Se le mie braccia sono molto più grandi dell'avversario, posso prendere in questo modo. Se sono molto più piccole, al limite posso afferrare in questa maniera qua. Quindi dipende da quanto le tue braccia sono proporzionate rispetto a lui. Vai da una presa molto larga, ok, a una presa più stretta. Una volta che hai parato e hai chiuso, le gambe servono per evitare che lui cadendo ti colpisca i genitali, devi mettere in leva la schiena. Cioè fai questa cosa qua, con la spalla spingi la parte alta e con le braccia tiri la parte bassa. E lo inclini leggermente tirandolo in su. Quindi meccanicamente succede questo. O l'avversario a questo punto cade al suolo. Noi abbiamo la gamba intrappolata, per cui non c'è pericolo per il calcio i genitali. Anzi, possiamo scendere noi per andare a colpire lui ai genitali o passare per continuare. Quello che dobbiamo fare è chiudere la misura per portarci con le nostre spalle contro il petto dell'avversario. Ok, questo è molto importante. Non vogliamo andare bassi, perché qui lui ci può afferrare il collo. Cioè può chiudere e prenderci in questo modo. Devi dare per scontato che quando inizi una meccanica di lotta può essere che ci sia qualche istante prima che la proiezione abbia luogo, che la finalizzazione a terra sia completa. Non devi lasciare cose scoperte. Per cui di base, se riesci a passare sotto le sue braccia, sei qua. Cioè se lui adesso cerca di afferrarmi, la posizione, vedi, è impossibile per lui. Perché l'escursione del gomito gli impedisce questa cosa. Quindi tengo un po' di pressione per evitare di essere preso al collo. Quando ho raggiunto il centro, chiudo con l'altra mano vicino alla sua colonna vertebrale. Pinzo con le ginocchia la gamba in modo che non mi arrivi nessun calcio nei genitali. Ora metto in leva la sua schiena. Spingo in avanti con la spalla, tiro indietro con le braccia. Questa cosa fa scendere lui a terra. Ok, le mie gambe sono chiuse, non c'è possibilità di ricevere un calcio nei genitali. Ovviamente questo è nell'ideale. No, nel senso va tutto bene e riesco a completare la proiezione. Ma potrebbe benissimo essere che io riesco a fare quasi tutto, ma mentre chiudo lui tira un po' indietro il sedere. Qui la leva è svantaggiosa, non riesco più a fare forza. Se lui è anche un pelo più grosso di me non ci riesco più. Cosa faccio? Con la gamba destra, ora io la allargo per farti vedere, ma poi la terrò più vicina. Sposto il piede d'appoggio mentre spingo con le mani, cioè faccio questa cosa qui. Di nuovo l'avversario cade facilmente a terra. Quindi di base io provo a prendere tutto. Se lui butta un po' fuori il sedere e non riesco perché la leva è svantaggiosa, mi aiuto con la gamba. Se lui è andato lontano con la gamba, in un istante lo puoi tirare giù. Quindi hai due opzioni. Sono fortunato, lo trovo vicino, lo trovo un po' lontano. Mi aiuto con la gamba, spingo con la spalla e lo accompagno a terra. Mantengo comunque le ginocchia vicine perché voglio essere io ad avere il controllo sui genitali. Non voglio che lui cadendo mi possa colpire. L'ultima opzione è nel caso in cui lui sia così lontano col sedere che non riesce a chiudere le mani. Per fare questo lui abbassa la spalla. Allora io posso, non c'è più il rischio per la mia testa e posso andare a prendere le gambe. Quindi sposto le mie mani da qui a dietro le ginocchia. Attenzione perché se vai subito a cercare questo, cioè siamo così e io cerco direttamente questo, lui riesce a bloccarmi. Devi prima cercare l'esca. Cioè io all'inizio cerco la colonna. Se la trovo bene, se è così posso agganciare. Se ancora un po' più indietro e non ho chiuso, vedi qui c'è ancora aderenza, passo le gambe. Lui non mi può più prendere il collo, spingo con la spalla, tiro in su le ginocchia e alla fine di nuovo lui è a terra. Non c'è nessuno sforzo perché io porto il suo peso fuori dall'asse e poi spingo ulteriormente. Numero uno, entro, tutto bene, chiudo e lui qua se ne faccia. Numero due, lui è un po' lontano col sedere, quindi non ci arrivo, uso la gamba. Numero tre, lui se ne accorge, tira indietro e allora vado a prendere le gambe. Qui non riesco a chiudere, prendo le gambe, spingo con la spalla in su le gambe. Un numero due, lui è un po' lontano col sedere.